Pim, pim! Stavolta non mi hai dato le luci psichidei, quindi me ne devi dare adesso senza musica. Dove sono? Non ci sono. Sono fuse. Come? A voi accetta, a me no. Allora, rilassiamoci un attimo, abbassiamo i toni, facciamo scendere queste magnifiche luci blu che ci sono nella nostra cosa. E... che dire? Tocchiamo dei toni un po' più romantici con questa canzone. E basta, Bario. Allora, questa è la sua canzone per eccellenza, quella che gli ha dato proprio il successo. Quale? Che tutti voi desiderereste di essere portati domenica al mare da Mario Unziante. Giusto? Com'è che fa? Domenica Allora, Domenica Mario vede la partita di pallone, quindi perché perché la... Dovresti cantare questa? Vabbè, a parte ste... Il di Amarico Complimenti, Mario. Grazie. Complimenti, tu sì che sei un autore. Facciamo un applauso, una bellissima canzone. Allora, noi siamo arrivati al termine, accendiamo le luci, il momento romantico è finito, alziamo queste... Cosa no? Mario, Mario! Grazie. All for you, che tra l'altro sono tutti giovani, un applauso, complimenti per l'organizzazione e quindi la sonoria, la festa della musica, grazie per averci invitato. Noi vi auguriamo, alza Bimbi, una buona, una buona estate e una buona continuazione. Buona estate, buona notte, buono. Buona notte, buona notte, buona notte. Buona notte, buona notte, buona notte, buona notte. Buona notte. Grazie, voglio ringrazio anche Alessandro Missicali e il suo 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 suorio. Grazie, Misi e vi presento di nuovo, Antonino. Un applauso per Mario Lanzante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.